Se hai perso la password della casella Postmaster del dominio, ti faccio vedere come reimpostarla. Accedi al pannello di controllo admin.aruba.it con il tuo username Aruba e la password. Espandi la sezione Servizi di posta nel menu a sinistra. Vai su Caselle di posta e nel box Gestione caselle clicca il link Modifica. Da questa schermata indica la nuova password, rispettando tutti i requisiti indicati qui sotto. Clicca sopra l'icona a forma di occhio se la vuoi ricontrollare. Adesso confirma la nuova password e poi clicca Modifica. Bene, la password è stata modificata con successo.